In assenza di giudizio è il romanzo scritto da Nadia Fornone, i 30 anni, di Ardesio, commerciante. Libro che verrà presentato venerdì sera alle 20.45 in sala consigliare ad Ardesio. Com'è che sei diventata scrittrice? Allora, diventare una scrittrice, a parte che scrittrice è una parola, è un onere molto grosso. Ho provato a scrivere un romanzo, tolgo un sogno dal cassetto, l'ho tirato giù la polvere, era tanto tempo che dicevo prima o poi lo faccio, prima o poi lo faccio. Ho utilizzato l'anno sabbatico in cui i miei due figli andavano ancora tutti e due all'asilo per avere più tempo libero. Ho seguito in parallelo un corso di scrittura creativa a Bergamo, l'associazione culturale Il Paese che non c'è. Seguivo i corsi e man mano completavo la stesura del romanzo. Sono riuscita quindi a farlo in tempi abbastanza brevi, un anno e tre mesi, che sembrano tantissimi ma in realtà volano. E niente, devo dire, è un'esperienza assolutamente gratificante, a prescindere dal successo o meno che potrà avere il romanzo. Un'esperienza di formazione veramente intensa, mi è piaciuto un sacco. Di cosa parla il tuo romanzo? Allora, il romanzo è una storia che si può ridurre con un termine brutto che non mi piace, però è anche banale. Parla di tradimenti, tradimenti sotto molte più forme. Sono tradimenti tra legami familiari che possono essere i fratelli, ma anche la moglie, un gioco di amanti. Si chiama in assenza di giudizio un titolo poliedrico per due motivi. Allora, innanzitutto perché le persone coinvolte, quindi i protagonisti di questa storia, fanno le cose più eclatanti proprio quando giudizio non lo utilizzano. Quindi con un sentimento prevalente, una passione che fa fare le cose senza giudizio per l'appunto. Dico che è un titolo poliedrico perché quando l'ho pensato pensavo che rispiecassi in realtà anche la morale che vuole trasmettere. Perché tu leggi il libro, arrivi fino a metà, ti fai una certa idea dei personaggi e facendo un giro di boa dalla metà fino a raggiungere la fine del romanzo, in realtà il tuo giudizio è completamente capovolto. E quindi la morale è che bisogna vivere certe situazioni per sapere e mai giudicare perché ti puoi sbagliare. Perché è proprio un romanzo su questo tema? Allora, dire la verità non lo so. Fammi precisare innanzitutto, anche mio marito che sarà sicuramente guardando, che non è autobiografica. Però è una di quelle storie che mi sembrava una trama vincente. Cioè tutto lì e man mano ho costruito un personaggio per volta, la storia prendeva forma, era, cioè seguiva uno dei, come si dice, delle regole fondamentali dello scrivere un libro che deve essere non necessariamente vero ma assolutamente verosimile. Quindi prendeva un bel gioco, si riusciva a seguire e ho mantenuto. Abbiamo detto venerdì sera la presentazione, cosa dobbiamo aspettarci? Allora, sarà sicuramente una presentazione diversa dal solito perché nel mio paese, grazie a Dio, è dove il libro è stato letto dalla maggior parte delle persone. E quindi mi ritroverò oltre che presentare e fare un'introduzione, finalmente potrò confrontarmi con i lettori e quindi avere uno scambio più diretto perché la storia l'hanno letta, l'hanno scritta e quindi viene vissuta in maniera diversa. E poi sveleremo finalmente in retroscena del perché. Il libro è stato presentato al 17 di dicembre a Gandino e a Nardesio. Devo spiegare ai miei concittadini la motivazione, la logistica per cui abbiamo fatto questa scelta.